Salve a tutti Blazers e benvenuti in un nuovo video sugli snapshot di Minecraft 1.17 E attenzione perché ho detto un nuovo video sugli snapshot di Minecraft 1.17 Non ho detto un video sul nuovo snapshot di Minecraft 1.17 Sì, avrei potuto dirlo in maniera diversa, forse vi volevo dare una piccola illusione Così come l'hanno dato a me, gli sviluppatori infami Oggi hanno postato dei tweet che mi facevano sperare nello snapshot e poi all'ultimo hanno scritto che non sarebbe uscito niente Il prossimo snapshot uscirà la settimana prossima e quindi per stavolta niente novità ragazzi Sono tristissimo Ma questo è comunque un video sugli snapshot Voglio fare un video dedicato, un video di riserva perché ho atteso finora per il nuovo snapshot ma non è uscito E quindi volevo dedicare un video al bundle glitch Ovvero una delle novità del gioco riguarda il nuovo bundle Che è un sistema diciamo alternativo per contenere oggetti prima della shulker box Ma ha un problema Questi bundle sono altamente glitchati E quindi possono duplicare un sacco di oggetti Vi farò vedere subito come ma Prima di tutto lasciate un like di consolazione per lo snapshot non è uscito Non vedo l'ora che sia settimana prossima per vedere le novità della 1.17 Che è solo all'inizio ma già promette davvero bene Nei commenti fatemi sapere se usate i glitch Perché adesso vi faccio un bel discorsetto Inoltre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Attivate la campanella Così ecco almeno non vi perdete nessuna notifica E infine vi ricordo che alle 20.30 sono in live sul mio canale Twitch Passate perché stasera 1 regalerò delle sub E ci sarà in ballo anche una settimana di VIP sul canale E due giocheremo con gli snapshot che abbiamo in 1.17 sulla survival Ok fatto questo lunghissimo preambolo andiamo a vedere questo bundle Intanto vi ricordo che il bundle è il nuovo oggetto che è già craftabile in survival Come ci serve della pelle di coniglio e delle stringhe Semplicemente Il bundle si crafta quindi con due stringhe e con il resto di pelle di coniglio Tutto qui E abbiamo il nostro bundle Nel bundle possiamo aggiungere vari oggetti fino a fillare uno stack di 64 oggetti Gli oggetti possono essere di diverso tipo E questo vi permette di occupare uno slot sempre con 64 oggetti Quindi meno della shulker Ma in qualche modo risparmiate spazio se accumulate oggetti diversi Di cui avete basse quantità Ma detto del suo utilizzo possiamo utilizzarlo anche con dei glitch Ora ci troviamo nello snapshot 20v45a Che è il penultimo uscito Ovvero il primo della 1.17 Quindi non è l'ultimissimo Perché ci sono due diverse glitch Uno per ogni snapshot Il primo che andremo a vedere Era ahimè molto più OP Quindi dobbiamo riprendere un bundle E prendiamo ad esempio i classici blocchi di diamante Tanto simbolici Funziona in questo modo Intanto ci serviranno 17 bundle Quindi è abbastanza costoso da questo punto di vista come glitch Ma una volta fatto Abbiamo un sacco di materiali Quindi direi che ne vale la pena in quel senso Quello che succede ora È che avendo 17 bundle E 64 blocchi In questo caso di diamante Non per forza devono essere 64 Però insomma vedrete adesso come funziona Quello che dobbiamo fare È prendere tutti i bundle In questo bundle Come vedete lo possiamo fillare Ed essendo 17 In questo bundle ne entreranno gli altri 16 In modo che si riempie Fatto ciò prendiamo i 64 blocchi Li stendiamo tutti In questo modo E occupiamo tutti gli slot Quando vado ad aprire il bundle pieno Non ho abbastanza slot E quindi viene droppato fuori Vengono droppati fuori i 16 A questo punto Andiamo in survival magari Andiamo sopra Droppiamo questo E per magia Ho raccolto gli altri 16 Quello che adesso posso fare Ed è qui che si attiva il glitch È riaccumulare questi E inserirli E qua sto facendo una pirlata Perché ne ho per sbaglio scorporati due Però considerate che sarebbero 16 Gli ho inseriti all'interno Del bundle Che però erano più bundle accumulati Quindi adesso Posso distribuire questi E andando ad aprirli singolarmente I blocchi di diamante Si sono moltiplicati Eccone qua già 9 stack Questo glitch è stato poi risolto Nella 20V46A Ma per vostra fortuna Ce n'è un altro Dico per vostra fortuna Detto che io di questi glitch Ad esempio Non ne farò uso Perché sono dannatamente OP Un po' come è stato Per quello dell'ametista Che vi ho fatto vedere Nel video di lunedì E ve lo metto anche nelle schede Sia perché Toglie un po' il gusto Del giocare No? Una volta che hai duplicato Tutti i diamanti E tutte le cose Non c'è più gusto a giocare Hai tutto Quindi Un po' rovina il gioco Io Ve li voglio spiegare Anche perché in tanti Mi hanno chiesto di parlarne Dicendovi anche che Lo faccio a scopo informativo Ma Fate ovviamente Quello che volete Io personalmente Vi direi di Non sfruttarli Perché Uccidono un po' il divertimento E sono ora passato Nello snapshot 20v46a L'ultimo uscito Come vedete Ho accumulato i bundle Qui dentro Ho tutti i blocchi Quando li apro Droppano Quando ci vado sopra E droppo questo Non ne accumulo 16 nell'inventario Ma uno alla volta In questo modo Il glitch non è replicabile Perché l'errore Avveniva proprio A quel punto Quando Si accumulavano 16 bundle Vuoti In un unico slot Ma appunto Come vi stavo dicendo C'è un altro glitch Che adesso andiamo a vedere Questo è Menopi Ma Lo è comunque Nel senso che Puoi duplicare cose Tra cui diamanti Infatti andiamo a prendere Di nuovo Un bundle E prendiamo questa volta Un normalissimo Diamante Quello che succede È che Come sapete E Questa cosa La puoi fare con tutti i blocchi Che hanno Un crafting Alla fine Ma come sapete Ad esempio Con il diamante Mettendone nove Nella crafting table Puoi generare Un blocco di diamante Ora Lasciamo questi 56 qui Quello che succede Che se ne tolgo uno Il blocco ovviamente Qua non c'è più Perché non posso Craftarlo Ma con il bundle Posso assorbire Questi diamanti E quindi qui Ne avrò Nove all'interno E posso comunque Prendere il blocco In questo modo Aprendo Ho I diamanti Nove Accumulate Agli altri 56 Che erano rimasti qui E un altro blocco ulteriore Quindi da che avevo 64 diamanti Adesso ne ho di più E posso Averne ancora di più Se faccio di nuovo Così E prendo Ancora Tutto quanto Con il bundle E tiro via questo Apro il bundle Scrafto questo E ne ho altri nove E via così ragazzi Si può duplicare Oggetti di infinito Questo glitch Essendo nello snapshot 20v46a È attivo tuttora Io non ne farò utilizzo Ma visto che molti Erano interessati Ecco come si fa E per questo video È tutto ragazzi Spero che vi abbia fatto piacere L'alternativa era Non postare niente Ma visto che avevo Questo video da fare L'ho voluto mettere Come alternativa Allo snapshot Non uscito Visto che era veloce Quanto meno Da realizzare Detto ciò Vi invito di nuovo A lasciare un like E ci vediamo stasera Alle 20.30 Live Il canale Twitch È in descrizione Regalerò delle sub Un posto VIP E faremo tante belle cose Vi aspetto Un saluto da Eren Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti